Tesoro, dov'eri? Ti stavo cercando. Anch'io, malala, tesoro mio, donna misteriosa. Bisogna riprendere tutte le prove che possiede quell'ippi schifoso. E come farai? Lo farai tu, ragazzo mio, mentre tutti noi saremo in chiesa. Non voglio che gli resti nulla che potrebbe essere usato contro di noi, è chiaro? Qui c'è il suo indirizzo, tieni. Sì, ma perché proprio io? Perché te lo dico io! Che cosa ci fai qui? Paloma, che sorpresa! Sono qui per vedere Lorenzo, c'è tutto bello. Tu stavi cercando di forzare la porta, che cosa stai cercando? No, non è possibile, Paloma. Ma che cosa c'entra Paloma con Claudio? No, beh, dai, calmati, ti posso spiegare? Cosa mi devi spiegare? Che bisogno hai di spiare le nostre cose? Vattene e nasconditi bene, perché quando lo dirò a mio fratello Lorenzo, le cose si metteranno molto male. Andiamo, non c'è bisogno di farlo. Vai via da qui, vattene subito! Forza, sparisci! Va bene, va bene, che carattere... No, non è possibile. Che significa tutto questo? Paloma! Paloma! Paloma, aspetta, aspetta! Paloma, ascoltami! Paloma, ascoltami! Allora, hai preso quello che ti ho chiesto da quel lì, pirrognoso? Che significa che non sei potuto entrare, stupido? Adesso quel delinquente avrà tutti gli elementi per poterci ricattare. Vai, vieni, sbrigati che dobbiamo andare in chiesa. Che deficiente! Se Federico mi pianta in asso per l'ennesima volta ti giuro che l'ammazzo, mamma! Io, Luca, sei sicuro che Federico verrà? Sì, starà arrivando, rilassati! Desabbrigato sin tus manos Amorosas, desolato Tan profondamente Marguerito innamorato che si sente quando tutto si termina con il alba amare che si sente che si sente con il corpo abbandonato con i tui besi con i tui caricias che si sente che si sente che si sente che si sente quando il amor è di barro e se cae e se deshace e se cuelga e se cuelga entre las manos con son hechos pedazos su retorno del fracaso solo un peco del dolor un ojero sin amor desangelato che si sente 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 dobbiamo pensare a una cosa mamma quando scoprirà che la mia pancia non cresce Federico mi dirà che non sono mai stata incinta quando quel momento arriverà vorrà dire che avrai un terribile incidente e perderai il bambino fatto tesoro adesso Flor non potrà più dire che l'eredità di Santigiana appartiene a lei l'ultima cosa che desidera sposare Federico comunque non importa perché così potremmo prenderci tutto il patrimonio Prince e Master sono abbastanza palida da indurre a credere che sto per morire mamma mi spaventi tesoro e dopo il matrimonio miracolo sono incredibilmente miracolosamente guarita mi piace che si siente che si sente che se sente che si siente come un nudo in la garganta Un dolor che non si acaba Che si sente Che si sente Che si sente C'est che si sente Che si sente Che si sente Che si sente Devo fare qualcosa per sembrare più alta Ma secondo me va benissimo come sei Albin Superstar 2 in Blu-ray e DVD Ti sembrava la tua voce? Non sai quanto ti voglio avare Io ti voglio porto parare Lore 2 Dalla lunedì 26 aprile alle 15 Su Boi Gente fuori di testa Tra poco su Boi